Sintesi dei principali argomenti trattati nel TG Piuvalli TV2, la televisione del territorio, partendo proprio da quella che è una polemica più o meno accesa tra Pietro Macconi e la dottoressa Chiara Crotti, zoologa del Parco delle Orobie, l'argomento in discussione è l'orso e alcune fotografie mostrate da Macconi è la stessa. Poi ci sposteremo in quel di Bossico dove la festa del pane l'ha fatta da padrone nella due giorni, un appuntamento della tradizione per questa realtà, ma non è l'unico evento tradizionale della zona perché andremo anche a Parre dove va chiudendosi la Sagra dei Capù e il Festival del Folclore, ma ancora Villa Donia anticipato tutti inaugurando un avvenimento che ormai è giunto alla 36esima edizione, la mostra del fungo e della natura. Questo è altro nel TG Piuvalli TV2, la televisione del territorio in onda sul canale 214, vi aspettiamo.